Ed ecco a voi la seconda parte del video di questo livello Karate Kid Street Rumble Dobbiamo sconfiggere Gary il portinaio Concentriamoci Non sarà facile batterlo perché è grosso e muscoloso Come un gorilla Voglio vedere che succede una volta sconfitto Questi boss hanno sempre la barra della salute troppo lunga Sconfitto Abbiamo vinto Io vi saluto Iscrivetevi al canale e mettete un mi piace Se il video vi è piaciuto condividetelo Ricordatevi che ci stiamo avvicinando agli ultimi livelli Vi saluto Iscrivetevi al canale e mettete un mi piace